Cosa mi vuoi far dire della Salernitana? Purtroppo siamo nati per soffrire. Una piazza come Salerno non può stare in quei posti dove sta in classifica. Abbiamo avuto fior fiori di calciatori quando c'era la presidenza di Aliberti dove abbiamo visto anche un bel calcio, un bellissimo calcio. Adesso se non ci ripropongo un'altra volta quel tipo di gioco e quei calciatori penso che sia un po' difficile riportare tutte quelle persone allo stadio come un tempo con tutta la forza. Io per la verità non so, il Presidente l'ho dito ogni volta che viene, ci offendo una continuazione dove devi venire il stadio, dove devi venire il stadio. Perché ci sta scritto? Giocondo sulle nostre fronti. Deve prendere i calciatori, ci deve portare in Serie A perché meritiamo la Serie A. Un bacino d'utenza come la nostra meravigliosa provincia, tutta. Le bellezze che stanno nella provincia di Salerno. Da invogliare pure come turismo le due costiere. E tra anche noi salernitani che sappiamo accogliere nel miglior modo i turisti che avvengono a Salerno. Ma lo so, se lui non vuole fare calcio a Salerno, la ceda. Noi siamo ben lieti se riferrebbe il nostro grande Presidente Aniella Liberti. Raffaele mi fai commuovere.